Pace bene a tutti e bentornati anche oggi con il nostro appuntamento con la Santità. Ed oggi, 15 aprile, ricordiamo San Damiano de Wester. Ascoltiamo la sua storia. Joseph de Wester, settimo degli otto figli dei coniugi fiamminghi de Wester, nasce nel Belgio nel 1840. Due sorelle e due fratelli divennero rispettivamente suore e preti dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, detti anche Società del Pic Pius. In questa società Joseph entrò a 19 anni e prese il nome di Fratel Damiano. Dopo alcuni anni di preparazione, venne inviato missionario nelle Hawaii, dove gli venne affidato un esteso territorio con soli 2000 abitanti. Damiano raggiunse le isole dopo 138 giorni di navigazione. Sulle isole completò gli studi e divenne sacerdote nel 1864. Istruì la gente nella fede ed insegnò ad allevare montoni, maiali e a coltivare la terra. Condivideva il loro povero cibo e dormiva come loro su un pagliericcio. Nel 1873 il suo vescovo cercò preti volontari per l'isola Lazzaretto di Molucai, dove il governo confinava i malati di lebra. Su quest'isola il santo ci restò per sempre, perché il governo temeva il contagio. Iniziò a fumare la pipa per nascondere l'odore insopportabile della carne in disfacimento, che a volte lo faceva svenire in chiesa. Dei suoi lebrosi divenne prete, medico e padre. Curò le anime, lavò le piaghe, distribuì medicine. Riportò dignità tra i malati. Nel 1885 venne contagiato anche lui. Pochi mesi prima della sua morte, arrivò il padre belga Conrardy per confessarlo. Sono tranquillo e rassegnato. E' anche più felice in questo mio mondo. Alla sua morte, avvenuta dopo un mese di letto, mille malati di lebra lo seppellirono ai piedi di un albero. Il suo corpo viene riportato in Belgio, a Lovagno, nel 1936. Nel 1995 venne beatificato a Bruxelles da Papa Giovanni Paolo II, che continuò l'iter iniziato da Paolo VI nel 1967 su richiesta di 33.000 lebrosi. Papa Benedetto XVI lo canonizzò in piazza San Pietro l'11 ottobre del 2009. San Damiano partì come missionario, come abbiamo sentito. E questa avventura lo portò fin su un'isola dove finisse segregato insieme a tanti lebrosi. Si trattava di un'isola a lazzaretto. Perché? Che cosa avveniva? La lebra era una malattia molto molto contagiosa e quindi i malcapitati venivano completamente allontanati dalla società per poter garantire la sicurezza di tutti gli altri. In particolare ricordiamo anche quanto sia stato importante per San Francesco proprio entrare in contatto con questi lebrosi che in quel periodo ad Assisi vivevano in un luogo lontano dalla città, nella campagna, e venivano allontanati e avevano proprio l'ordine di non entrare in contatto con nessuno. San Francesco ha proprio il coraggio di abbracciare uno di questi lebrosi e al loro servizio si dedicherà per molto molto tempo. Ce lo racconta lui stesso che ciò che gli sembrava amaro da quel momento dal Signore li fu tramutato in dolcezza. Questo ce lo dice nel suo testamento. E San Damiano, che è anche un nome collegato a San Francesco proprio per la chiesa di San Damiano, anche finì in un luogo del genere, fino a quando si è ammalato e fino a quando è morto di lebra lui stesso, aiutando questi poveri malati. Ora la lebra non esiste più nelle nostre, perlomeno nei nostri ambienti, quindi siamo al sicuro, ma cos'è la lebra se non questa malattia che sfigura il volto dell'uomo, lo rende brutto, lo rende schifoso, snaturato proprio. Quante lebre però ci sono e che noi imponiamo agli altri? La nostra società oggi vuole definirsi inclusiva, ma è inclusiva fino a che punto? Perché forse noi abbiamo ora tante norme che garantiscono che tutti quanti possano sentirsi a proprio agio in determinati contesti, conosciamo le battaglie per garantire che spariscano tutte le differenze. Però mi chiedo, siamo capaci per questo di metterci a fianco di tutti, soprattutto dei più discriminati, e anche rinunciare addirittura alla nostra vita, come hanno fatto i missionari, ad arrivare a questo abbraccio? Non è che la nostra inclusività si ferma solamente a quattro norme, a parole che non dobbiamo dire, per poi in realtà rimanere con una grande distanza nei nostri cuori? Chiediamo l'intercessione sia a San Damiano che a San Francesco proprio di fare questo, di abbattere le distanze, proprio per arrivare al fianco a fianco con gli ultimi, con i più emarginati, non solo a livello formale, a livello delle parole, a livello, diciamo, superficiale, ma proprio ad andare nel più profondo. L'abbraccio fa avvicinare i due cuori, ed è questo che noi chiediamo oggi a San Damiano. San Damiano prega per noi.